E bentornati carissimi amici su Missing Tech, la prima volta insomma che lo dico da quando abbiamo cambiato il nome a questo canale di YouTube per chi non lo sapesse insomma per chi non ha seguito la nostra ultima live da qualche giorno possiamo dire sì sì su pochissimi giorni questo canale YouTube non si chiama più Vincenzo Caputo cioè non porta più il mio nome ma si chiama Missing Tech perché andatevi a vedere la live per scoprire perché comunque siamo Missing Tech lo vedete sicuramente insomma nella miniatura qui sotto del nome canale con nuovo logo nuovo tutto bene e quindi esordiamo è la prima volta e sono un pochino emozionato lo devo ammettere che vi dico bentornati su Missing Tech da oggi insomma esordirò sempre in questo modo e sono talmente emozionato che non vedete la mia faccia come al solito perché c'è la lacrimuccia perché insomma ero legato al vecchio nome comunque bando alle ciance siamo oggi in compagnia con un nuovissimo prodotto della famiglia Sonoff che sicuramente farà la felicità di tutti gli amanti della domotica un prodotto Sonoff molto particolare intanto perché è un prodotto della famiglia Zigbee e quindi non con classica radio wifi ma con radio Zigbee abbiamo detto più volte quali sono i vantaggi di utilizzare una radio Zigbee diciamo andate ad alleggerire il peso fra virgolette della vostra rete wifi niente indirizzo IP niente traffico wifi sul vostro access point insomma quello integrato all'interno del router eccetera di solito più stabilità più velocità di reattività del segnale ma vedremo che ci sono anche alcuni contro proprio nello specifico sui prodotti della famiglia Sonoff con questo protocollo hanno ancora dei limiti e poi abbiamo questa dicitura Extreme che insomma è una nuova dicitura che è comparsa su alcuni modelli nuovi modelli, nuovi new entry della famiglia Sonoff e andremo a vedere perché è estremo, in che cosa è estremo quindi andiamo un attimino ad aprire la confezione con l'ausilio di un cacciavite altrimenti le sfascio sempre eccola qui, apriamo la confezione, vediamo che è veramente estremo, 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 estremo è estremo nelle dimensioni naturalmente, soprattutto nelle dimensioni, nel pacchetto c'è il piccolissimo Sonoff lo vedete sulla mia mano, ce ne starebbero quattro nel palmo della mia mano, veramente minuscolo ecco qui lo tengo tra due dita morsettiera qui sotto con quattro morsetti, ora andiamo a vedere bene da vicino ecco qui qualche indicazione tecnica alle spalle tra le quali, diciamo, vediamo la più interessante il carico massimo di 6A e quindi praticamente da utilizzare praticamente per i punti luce perché difficilmente, diciamo, con più di 6A riusciamo, con il limite di 6A possiamo riuscire, diciamo, a collegare dei carichi più elevati quindi adattissimo ai punti luce ma è adatto ai punti luce soprattutto per un altro motivo perché se avete letto nella confezione prima ecco qui non è oltre a required quindi non è richiesto l'utilizzo del neutro e quindi veramente indicato per due motivi a stare all'interno di una cassettina classica cassettina 503 o 504 quella che è quindi abbinato ad un interruttore per punto luce perché? perché ci sta benissimo perché è piccolo quindi questo ci entra alla grande in una 503 anche discretamente affollata e poi non richiede il neutro per essere utilizzato quindi vediamo che abbiamo la sola fase in ingresso quindi un L in ma non abbiamo un N e questo è fondamentale diciamo importantissimo perché nelle cassettine 503 dove abbiamo un interruttore che comanda un punto luce quell'interruttore va proprio a interrompere la fase il neutro invece segue dritto verso la lampadina ora andremo a fare un esempio da bancor naturalmente e quindi la situazione tipica in cui ci troviamo quando apriamo una cassettina 503 è che non abbiamo un neutro disponibile a meno che non andiamo a tagliare il filo in qualche modo e andarci a recuperare ma è cosa sconsigliabile naturalmente e quindi dobbiamo di solito prevedere altri infilaggi in questo caso non è necessario perché andremo a staccare dall'interruttore esistente la fase che andrà a alimentare il sonoff e poi l'interruttore lo andremo ad attaccare su uno di questi due morsetti ora vediamo dal manualetto a che servono perché sembra ci siano due ingressi ma vedremo bene a cosa servono quindi estremo nelle dimensioni estremo anche per il fatto insomma che richiede solamente la fase per poter funzionare non c'è null'altro da dire sulla parte estetica insomma è funzionale almeno per quello che compare qui sul case del dispositivo se non che c'è questo pulsantino poi andremo a vedere a cosa serve sicuramente per le operazioni di pairing eccetera all'interno della confezione non c'è nient'altro se non un piccolo manualetto in varie lingue tra cui c'è anche l'italiano ecco qui vedete c'è sotto dove ci sono i vari schemi di collegamento insomma ci spiega un pochino di cose ecco qui tra le cose più interessanti vediamo su questa paginetta vediamo che è possibile utilizzare il Sonoff Mini ZigBee Extreme o con un interruttore posizionato qui su S2 oppure con due deviatori ecco perché ci sono due ingressi su S1 ed S2 qui abbiamo i due schemi mostrerò come prova da banco il singolo interruttore ma è evidente insomma abbastanza semplice realizzare uno schema anche con due deviatori e quindi andiamo subito a prendere una morsettiera la mia classica morsettiera di distribuzione che facciamo comparire qui sulla mia scrivania e andiamo a fare un pochino di collegamenti chiaramente rigorosamente con la spina staccata grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi raccomando se fate anche voi dei test, delle prove, fatelo in completa sicurezza. Quindi che cosa ho fatto? Ho messo questo mio portalampada, anzi partiamo dalla morsettiera di distribuzione, chiaramente dove vedete tutti i fili scuri, neri o marrone siamo sulla fase, dove vedete quelli blu vanno a distribuire in neutro. Quindi un neutro, unico neutro che va a uno dei due poli del portalampada, l'altro polo del portalampada naturalmente prende da out e quindi quando andremo a dare la fase su questo morsetto out andremo a dare alla lampada sia il neutro che la fase. Chiedo scusa per il portalampada con tutti i due colori marroni, non è corretto ma per una prova da banco va bene. Luigi Duchi mi ha già impoverato 15 volte, mi ha detto guarda aprilo quel portalampada che si possono cambiare i fili ma non riesco ad aprirlo. E' un pochino inchiodato, è una roba vecchia ma ripeto per le prove da banco va bene, va bene, va bene. Invece l'interruttore, questo interruttore cosa fa? Prende la fase da una delle fasi insomma che ho qui sulla morsettiera di distribuzione, naturalmente la interrompe, eccolo qui si è staccato, ora andrò a rifare bene il collegamento perché è uscito il filo da una parte e lo va a ributtare all'interno di S2. Come abbiamo visto nello schema poco fa, S2 è quello che è indicato nello schema come morsettiera per la configurazione con un solo interruttore. Vado a rifare un attimino il cablaggio di questo che è venuto via, non so come abbia fatto. Ok, perfetto ed eccoci qui. Quindi abbiamo detto che non abbiamo bisogno del neutro sul dispositivo ma abbiamo bisogno solamente della fase in ingresso, ecco qui quest'altro marrone che va su L-in. Quindi siamo pronti per dare corrente, andiamo ad attaccare all'alimentazione il nostro cavo. Ecco qui, non so se vedete, metto una manina davanti perché c'è tanta luce nella stanza e il led non è facile vederlo. Quando il led ha iniziato a lampeggiare, proviamo ad avvicinarci un po', ecco qui, lampeggia, si si vede un pochino, lampeggia di colore verde. Quindi in questo momento è in modalità accoppiamento. Con cosa l'accoppiamo? Naturalmente non con il wifi, perché abbiamo detto che la radio all'interno è di tipo Zigbee, e quindi ecco qui che compare sulla nostra scrivania un gateway, un bridge, un Sonoff Zigbee bridge. E a cosa serve? Naturalmente serve a far comunicare i mondi wifi e Zigbee. Quindi lui comunicherà, il Sonoff mini Zigbee comunicherà con il bridge tramite la radio Zigbee e lui ha un'altra radio wifi poi con cui si connette con il wifi. Naturalmente andrà prima abbinato questo all'applicazione WeLink e poi andrà abbinato questo come sottodispositivo. Quindi ora facciamo comparire l'applicazione WeLink sul mio smartphone, qui da qualche parte nell'inquadratura, e vediamo che c'è in cima proprio alla lista, c'è il Zigbee bridge che ho associato in precedenza. Entriamo all'interno del Zigbee bridge, facciamo aggiungi, ed ecco qui il nostro Sonoff Zigbee mini L2, correttamente associato, abbinato all'hub, quindi banalmente basterà, ecco qui, andare a premere su questo interruttore virtuale per ottenere l'accensione nel nostro Sonoff Zigbee mini. Altrimenti all'interno della... entrando all'interno proprio del dispositivo avremo questo maxi pulsantone che serve a fare la stessissima cosa. In basso abbiamo le solite funzionalità di WeLink, quindi orario, timer e timer ciclico, per andare a dare le impostazioni di accensione in maniera temporizzata. E poi andiamo un attimino a vedere quali sono le altre impostazioni che possiamo andare a settare sul nostro Sonoff Zigbee mini. Quindi, come vedete, c'è il nome, chiaramente, che può essere cambiato, la versione del firmware, assegna posizione, quindi gli possiamo andare a dare una stanza, i registri che ci vanno a indicare, insomma, l'accensione e lo spegnimento. Stato accensione, questo qui è lo stato del dispositivo al momento dell'interruzione dell'alimentazione o dello spegnimento dell'interruttore fisico, quindi sarà possibile, praticamente, quando ritorna la corrente, fare in modo che ritorni sul stato di spento e di acceso o ultimo stato in cui era prima di essere disalimentato. Non c'è tanto di altro, e qui vi dicevo un pochino dei limiti da parte di WeLink dei dispositivi Sonoff della serie Zigbee. Gli mancano un pochino di cose rispetto alle versioni Wi-Fi, tra cui una delle più interessanti e delle più amate tra gli utenti, le impostazioni di inking, cioè quando andiamo ad accendere un Sonoff, qualsiasi Wi-Fi, possiamo impostare un tempo automatico di spegnimento, cioè dopo averlo acceso, dopo tot secondi si può spegnere, o viceversa, è possibile fare anche il contrario con l'accensione. Bene, tra le tante cose, nei dispositivi Zigbee manca questa funzione che è veramente importante e interessante, quindi funzioni basilari. Vediamo se funziona con l'interruttore. Sì, funziona già con l'interruttore, e quindi non dobbiamo fare alcuna modifica. Ho letto sul manuale che per andare a settare il dispositivo per funzionare in modalità con due deviatori, bisogna cambiare la modalità di funzionamento, quindi da interruttore, che sembra sia quella di default, e infatti a me funziona già da interruttore, fare, bisognerebbe fare triplo tap veloce su questo pulsantino sul dorso, per impostarlo nella modalità di funzionamento con due deviatori, anche questo stranamente non è possibile farlo via software, perché non vedo richiamato da nessuna parte, diciamo, la possibilità di andare a cambiare questa impostazione all'interno dell'applicazione Winning. Naturalmente è prevista la modalità mista, quindi posso accendere dall'applicazione e spegnere dall'interruttore, posso accendere dall'interruttore e spegnere dall'applicazione. Ora si è messa a lampeggiare perché questa è una lampadina smart, avevo solo questa disposizione, è stata accesa e spenta più volte in maniera ravvicinata, è andata un pochino, è andata in accoppiamento praticamente. Bene, ragazzi, penso di aver detto praticamente tutto, naturalmente è compatibile anche con comandi vocali, con gli assistenti vocali sia di Google che di Amazon, lo leggete qui sul cartoncino, penso che non ci sia bisogno, insomma, di farvi una dimostrazione di questo, perché l'abbiamo fatto vedere veramente, veramente tantissime volte. Bene, 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 vi lascio, vi ricordo di iscrivervi a questo canale, qualora non l'abbiamo già fatto per essere avvisati ogni quavolta un nuovo video viene caricato, iscrivetevi su Missing Tech e vi saluto, è veramente tutto, tutto, tutto da Matera, un saluto da Vincenzo, vi do appuntamento al prossimo video, ciao!